Io tendenzialmente sono sceneggiatrice dei miei film ed è una fase per me molto importante. Poi mi è capitato di lavorare anche a film di altri, ultimamente particolarmente con Paolo Virzi e quindi ho fatto un lavoro più da sceneggiatrice pura. Però ecco, io credo che sostanzialmente uno sceneggiatore sia uno scrittore. Scrivere in collaborazione, anche quando per esempio scrivo per i miei film, gli ultimi film li ho scritti insieme a Francesco Piccolo, è senz'altro avere un grande apporto di immaginazione, scambio, confronto con una persona che stimi. E credo che ci siano tanti diversi modi di collaborazione. Per esempio ci sono dei registi che girano delle sceneggiature scritte da altri. Quindi c'è uno scrittore e poi c'è un riscrittore, perché comunque girare un film è riscriverlo. Le riprese sono a tutti gli effetti un'altra versione della sceneggiatura. Un film è un processo molto lungo, quasi un processo di costante approssimazione a un nucleo. Per quello che mi riguarda io parto sempre dai personaggi che li ho trovati in un libro, che mi hanno raccontato, che li ho visti in una pièce teatrale. Penso che ci siano delle forme psichiche che mi interesserebbe raccontare. E poi, diciamo, la storia viene dopo. La storia è quasi un frammento della loro vita. La sceneggiatura è scegliere, scrivere quel frammento della loro vita. Dopodiché c'è un lunghissimo lavoro di rendere in immagine. Per esempio, nella scelta degli attori, una lunghissima fase di provini, di attribuzione dei ruoli, scegliere le persone e degli ambienti. Sappiamo tutti che in realtà noi entriamo nella casa delle persone e quasi a colpo d'occhio ci rendiamo conto chi sono dall'ambiente nel quale abitano. E quell'ambiente è un'immagine. Quella casa, quella stanza, quel soggiorno, quella cucina, quella è un'immagine. E lo stesso vale, per esempio, per i vestiti. Quelli che vengono chiamati i costumi, ma per me sono dei vestiti. Com'è vestita la gente? Noi, istintivamente, il nostro terzo occhio ce la fa dividere a secondo di com'è vestita. Noi capiamo una persona chi è, da come entra da una porta. Ecco, quello fa parte anche della scrittura e dell'immaginazione del ricreare una persona che non esiste, ma che debba essere comunque verosimile. Partendo dagli sdraiati, che comunque era un... Il libro di Michele Serra è un lungo monologo, quasi una specie di lunga lettera di un padre e un figlio e senza risposta. Quindi anche un qualcosa dentro di malinconico, di feroce e malinconico. Poi, quando devi scrivere invece un film, raccontare una storia, devi riscrivere comunque un romanzo familiare. Noi abbiamo riscritto un romanzo familiare, abbiamo dato voce a tutti i personaggi, anche al figlio, anche a Tito, ai suoi amici. E quindi il punto di vista, in qualche modo, l'abbiamo parcellizzato. Il rapporto con ciò che uno si è immaginato, ciò che è venuto fuori, è sempre molto conflittuale. Cioè, in realtà i film riescono se si brucia una specie di scarto fra ideazione e realizzazione. Ma non è detto che le cose che non vengono come ti sei immaginato siano le cose peggiori. Diceva Jean Renoir, che è un grande regista degli anni d'oro, del cinema francese, degli anni 30-40, che bisogna lasciare aperta una porta sul set. Questo per me è veramente un credo, perché nelle sequenze anche non riuscite, magari, o che non sono riuscite come vorresti, comunque c'è un elemento di disordine portato appunto dal fatto che l'immaginazione non è riuscita a coprire tutta la verità del set. E lo considero sempre comunque positivo. Nel corso della mia vita ho fatto tutti i tipi di film, cioè da soggetti originali, idee completamente scritti, magari da sola, senza collaborazione. Ho preso spunti da romanzi, ho preso una piesta teatrale. Io credo che da qualsiasi cosa si parta c'è sempre un pretesto, letteralmente. Perché poi il testo è la sceneggiatura. E il lavoro che stai facendo. Da qualsiasi punto di partenza tu arrivi in un punto di arrivo che è sempre comunque originale. Perché se non fosse così sarebbe un problema per il film. A volte si fanno dei remake proprio per mancanza di idee. A volte invece no, cioè anzi quasi a nobilitare un film nel senso che viene trattato come un romanzo da cui tratti e estrai un altro film. Quindi c'è lo stesso rapporto che si ha con appunto la letteratura, il teatro. L'importante è sempre l'originalità del film che poi si tira fuori. Cioè se ha un motivo di stare da quel pretesto è riuscito a diventare un vero testo. È autonomo e originale. Quindi non credo che ci siano delle regole. Ecco, le regole non ci sono. L'unica regola è quella di riuscire a fare un bel film che è la regola più difficile da attendere. Ma una delle cose più faticose è quella di fare esegesi di se stessi. Anche inelegante. Nel senso che mi piace in genere rispondere a delle cose anche particolari, dei segreti di cucina, di come faccio i film, di come li scrivo, di come li giro, di come li monto. Però sull'ispirazione, ciò che... Ecco, a me non mi sono tanto simpatiche le persone che dicono il mio cinema. Perché è sempre una cosa degli elementi, li devono vedere gli altri, li devono vedere gli spettatori. Non puoi essere tu che fai, diciamo, il saggio critico su te stesso. Io devo dire che sono abbastanza vigliacca e quindi ho la regola di Woody Allen di non leggere le critiche. Perché è vero quello che dice Woody Allen, cioè che le critiche positive te le dimentichi. Invece quelle negative ti feriscono e ti restano dentro per molto tempo e non sempre ti sono d'aiuto. Nel senso che molto spesso i critici, soprattutto i quotidianisti, sono frettolosi, non hanno tempo, hanno poche righe e sono sbrigativi in un modo del tutto, come dire, sproporzionato all'amore, alla fatica che ci mette un'intera truppa, un regista, gli attori a fare quello che fanno. E quindi non penso che valga la pena leggerle. Altra cosa è per quando ti fanno dei saggi critici che magari contengono anche degli elementi di critica. Allora, quelli sì, perché senti che chi ha fatto quel lavoro, a chi ha scritto quelle pagine, ha visto i tuoi film, ha approfondito, ha fatto un lavoro un po' analogo al tuo, quindi merita il tuo interesse. Sai quanta gente ti dice dopo anni «Ah, ma io il tuo film non l'avevo capito, l'ho rivisto quanto mi è piaciuto», ma io stessa mi ricordo che nel caso per esempio di un film di Ken Loach, «My name is Joe», sono uscita dal cinema arrabbiatissima. Se avessi dovuto scrivere una critica avrei scritto una critica veramente stupida, perché non l'avevo capito. l'ho rivisto con calma una volta in televisione su Sky e invece l'ho capito. Non era nemmeno un film difficile, però chissà come ero entrata, chissà che... e quindi insomma bisogna facendo questo lavoro tendo ad avere molto rispetto per chi fa questo lavoro. Una cosa abbastanza curiosa in Italia è che i più grandi sceneggiatori sono anche i registi. non so, penso a Paolo Sorrentino per esempio, Paolo Virzi. Insomma, devo dire che molti molti registi sono dei grandi sceneggiatori, grandissimi dialoghisti. A me di internazionale, anche se fa prevalentemente televisione, ha fatto pochi film, mi piace ovviamente molto Aaron Sorkin, soprattutto mi piace per il suo... proprio la sua genialità del dialogo. è uno che ha un tocco molto molto felice su il modo di parlare della gente e siccome io sono una dialoghista, faccio tendenzialmente commedie dialogiche di dialogo, mi piace molto e mi piacciono i dialoghisti. Grazie. 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 Grazie.